Andiamo insieme! Vai in mano! Allora, noi l'abbiamo affrontata come l'avamo preparata, diciamo, sappiamo che il Nuzio era un'ottima squadra, veniva da un ottimo momento e si è visto, tutta la partita è stata una partita equilibrata, al primo tempo abbiamo giocato meglio noi, al secondo siamo un po' calati, loro sono venuti fuori, ma con l'orgoglio e con la grinta siamo andati a portare a casa la vittoria. Adesso tra due giorni abbiamo già una partita di campionato che cercheremo di affrontare al 100%, dopodiché con tutta tranquillità ci prepareremo per la partita di mercoledì. Diciamo che era il minimo che potevamo fare, la Coppa era un po' un obiettivo dichiarato all'inizio della stagione, però noi comunque come squadra, come giocatori, ci siamo focalizzati partita su partita, siamo arrivati qui e adesso chiaramente vogliamo andare fino in fondo. In campionato abbiamo disputato soprattutto un'ottima annata, il ritorno ci sono stati mille fattori che ci hanno portato un po' magari a calare in certi momenti, ma il gruppo è unito e ci prepareremo al medio per mercoledì. Grazie!